vediamo si scende da qua ok andiamo giù siete pronti 3 2 1 buon salve a tutti i miei fancini ciao e bentornati in un nuovo video della vanilla come state spero tutto bene qui e bella fazia che vi parla mamma mia nello scorso episodio abbiamo finalmente trovato i detriti antichi lo so lo so solo un detrito antico però posso dire che finalmente mio caro cagnolino wally ho trovato la nederite ragazzi arriviamo almeno a 10.000 mi piace per un nuovo super episodio della vanilla in hardcore la vanilla più hardcore della storia di minecraft ah questa vanilla è super 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 difficile mio caro wally allora andiamo a mettere subito al sicuro il nostro il nostro detrito antico anche se possiamo cuocerlo vediamo cuoci 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 quanti me ne dai quanti me ne dai uno frammento di nederite ok solo uno ah guardate le nuove ricette che abbiamo sbloccato ok ti metto qui e abbiamo finalmente trovato le verruche dei piedi di nonno pino si no non prendetemi le mie verruche allora innanzitutto voglio far crescere le verruche quindi facciamo subito una cosa disgustosa dove la facciamo di sopra ne voglio un bel 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 po quindi vediamo le mettiamo momentaneamente ovviamente qui ma si dai le mettiamo qua momentaneamente ecco qui finalmente abbiamo anche le verruche del neder come come procede qua mamma mia pensavo che fosse morto il mio zombie vediamo mamma mia che bello anche ripristino devo riuscire a scambiare tantissime cose col mio villager vediamo vediamo un pochettino se la farm di canne da zucchero ha prodotto comunque sia guardate che bella la casa sull'albero c'è non sembra che ci sia una casa qua sopra ragazzi però mi dispiacerebbe togliere le zucche perché è molto carino vederle qua mamma mia che casa ma che casa ho creato ragazzi è fantastica salve signor testa di zucchina allora andiamo subito a vedere il bambù cioè volevo dire le canne da zucchero quanto hanno prodotto e già che ci sono ecco vi faccio vedere che ho fatto due nuove isolette per fare altre farm voglio vedere quanto ha prodotto la mob farm perché c'è guardate qui continua a produrre qui si produce mob farm oh mio dio c'è guardate è pieno è tutto pieno non ci posso credere mio dio devo assolutamente portare un chierico qua vediamo vediamo un pochettino a fra l'altro mi avete dato tantissimi consigli utilissimi e io vi ringrazio veramente tantissimo ragazzi siete proprio la forza della vanilla allora vediamo 43 ok non c'è male ne prendo un pochettino sicuramente il bambù invece ne ha prodotto tantissimo e infatti già quasi 5 stack mamma mia ma che super farmacrea bella faccia allora mi ero scordato perché i più furbi avranno già visto in questo momento lo spoiler mi ero scordato la super sorpresa che vi dovevo far vedere in uno scorso video siete pronti avete lasciato già un super like vi avevo detto arriviamo a 10.000 mi piace se volete vedere lo spoiler e vi faccio vedere no non si guarda la sotto cavolo devo non devo inquadrare la sotto i più furbi ragazzi avranno già capito i più furbi avranno già capito di che cosa sto parlando siete pronti per la sorpresa vi avevo detto che cosa c'era qua sotto secondo voi e c'entravano gli occhi di ragno vediamo si scende da qua ok andiamo giù siete pronti 3 2 1 ho ultimato la mob farm di ragni ragazzi guardate che bello oh mio dio guardate che belli i delfini che nuotano ho fatto una mob farm subacquea e qui in pratica c'è una porta dove posso stare a fk così non mi attacca nessuno leggo un po di libri e qua ragazzi arriveranno tutti i ragni vorrei proprio farvela vedere ma l'ho fatta a fk ecco guardate arriveranno tutti i ragni qui e a noi basterà colpirli mamma mia è super potente guardate già quanto prodotto un sacco di ragnatele lo so lo so avevo già la mob farm però mi dispiaceva perché avevo questo spawner qua sotto ed era veramente un peccato non usarlo comunque sia ho fatto in modo che cosa ho fatto di particolare in pratica l'acqua li porta qua sotto ci sono dei magma magma no la sabbia delle anime mi sembra sì che porti su la sabbia delle anime li porta su qua sotto ho fatto un giochino con tutte queste scale con tutti questi cancelletti e loro arrivano qua e a noi basterà prendere la spada e ucciderli guardate che bello c'è fantastico è super super efficiente e non mi arriva danno non mi arriva niente mi arriva un sacco di esperienza finalmente potremmo farci tutte le su guardate arrivano anche gli scheletri finalmente potremmo farci tutte le cose incantate super fortissime cioè guardate io sto qui non mi succede niente mamma mia super super incredibile mob farm quindi questa è la nostra mob farm di esperienza finalmente vi è piaciuta la sorpresa e poi è veramente bello perché ho messo qua sopra le alghe ho messo tantissime cose il vetro questa è una super stanza io spero che vi piaccia ragazzi un giorno mi metterò qua a fare una quarantina una cinquantina di livelli e incanterò tutto ve lo prometto e per tornare su basta andare qua e ed ecco qua qui magari si farà una cabina però fatemi sapere che cosa ne pensate a me questa super stanza mi piace veramente tanto 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 guardate le nostre verruche stanno già crescendo allora tu devi commerciarmi qualcosa di carino quindi ti do un sacco di carta e mi dai tanti smeraldi tanti smeraldi solo due mio dio c'è questo qui ci da ripristino ma ci rendiamo conto ci da ripristino ragazzi io comunque ti faccio ti ritrasformo in zombie perché tu mi devi commerciare cose ancora ancora più convenienti per me quindi forza zombie trasformalo e colpiscilo colpiscilo ho detto colpiscilo zombie ho detto colpiscilo perché non lo colpisci dai colpiscilo ci vuole così tanto forza colpisci matti colpisci matti dai ok abbiamo dei problemi dei problemi esistenziali zombie qua eh perché non lo colpisce zombie o lo colpisci o lui non mi fa gli sconti lo vuoi capire ti lascio un pochettino lì mi avete dato anche un sacco di idee per l'orso polare e presto lo chiameremo in un modo epico ragazzi mamma mia guardate che bello lì nella sua isoletta niente non vuole attaccarlo non lo vuole attaccare ma che cosa ti succede zombie sei diventato pigro comunque sia oggi voglio fare un pochettino di progressi perché io qua sotto avrei veramente piacere di farci una villa una casa enorme con tutta la vista dell'oceano quindi ho preparato un sacco ma un sacco ma un sacco di vetro perché voglio fare una base subacquea cioè adesso non riusciremo a farla oggi però intanto metto giù le fondamenta ho messo il vetro tutto qua ecco guardate ce ne ho fatto un sacco ho preso un sacco di sabbia e guardate quanto magari possiamo utilizzare il basalto levigato non lo so andiamo andiamo a provare andiamo a provare per intenderci voglio fare una cosa di questo tipo allora qua ci proviamo a mettere il basalto qua ovviamente dobbiamo togliere tutta la terra facciamo un'operazione delicata togliamo la terra togliamo togliti ok quindi basalto basalto ne possiamo mettere anche un'altra fila così e poi qua ci mettiamo il vetro e qui noi avremo tutta la visuale di tutto di tutto l'oceano non so secondo voi è carino ovviamente qua ci faccio un tetto perché così orribile qui ci metto altro oh cavolo sto affogando porca miseria devo stare attento e io non so ancora respirare però finalmente possiamo fare le pozioni e in un prossimo episodio forse possiamo finalmente andare tornare nel monumento oceanico guardate quanti mostri che ci sono quindi in un altro episodio non oggi io qui voglio fare una super casa subacquea fatemi sapere che cosa ne pensate ragazzi secondo me può essere carina non lo so eh allora visto che ormai la farm di bambù ce l'abbiamo direi che possiamo toglierlo giustamente da qua eh non ci servi più bambù ma quanto c'è ma quanto me ne ha droppato poi qua voglio abbellire tantissimo il portale del nether mi avete consigliato di farlo molto più carino e vi prometto che lo farò comunque sia guardate i blocchi che si baggano c'è guardate i blocchi che si baggano nel mio mondo incredibile però la stanza per ora che mi piace tantissimo è questa qua la nuova super stanza che ho fatto vorrei tanto farvi vedere che cosa c'è dietro però è veramente semplice ragazzi qua ho messo un sacco di casse io starò afk qua bellissima fatemi sapere ovviamente nei commenti che cosa ne pensate io adesso non so cerco di arrivare almeno a 30 livellini e incantiamo qualcosa ecco vedete lì ho messo delle botole delle botole lì sono tutti canzelli qua delle tramozze qua ho messo questi queste lastre ecco qua si vede meglio vedete non mi attaccano no stavo per dire non mi attaccano nemmeno da qua però è super compatta e mi piace perché è la prima farm che riesco a fare dove i ragni non mi riescono ad attaccare è incredibile cioè guardate quanti livelli riusciamo a fare e me li porta sempre da me e poi queste alghe mi piacciono veramente tanto ragazzi io spero che la nuova stanza vi sia piaciuta fatemi sapere se ogni tanto vi piacciono queste sorprese queste video sorprese e niente fatemi sapere cosa costruire in un prossimo episodio dal vostro bella faccia è tutto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao